La nostra associazione, C'è un'associazione gastronomica diffusa in tutto il mondo, è l'unica associazione legata a professionisti e non professionisti. È presente in tutti i cinque continenti, siamo circa 30.000 soci, differenziati con circa 18.000 soci non professionisti e il resto professionelli. Siamo legati ai ristoranti di media e alto livello, siamo diffusi dall'Alto Adige fino in Sicilia in tutte le regioni con la presenza in ogni zona territoriale di un presidente locale. In questa occasione, proprio qua in Abruzzo, abbiamo la gioia di avere la presenza di circa 12 paesi del mondo, da parte anche da Porto Rico, dal Libano, dall'Australia, dall'America, dall'Arabia Saudita, dall'Emirati, eccetera. E questo evento viene fatto ogni anno con nuovi soci che vengono, cosiddetto nel termine tecnico, intronizzati, cioè coloro che ricevono questi ruban, questi collari, che non sono altro che significano l'appartenenza alla associazione, differenziano i colori per gli vari incarichi che ci sono. Ho fortemente voluto l'organizzazione dello sciapitre in Abruzzo e il Baidele che mi ha agevolato e il particolare ad Atri perché è la mia città di origine della mia famiglia e mi sono avvalsa di ottimi collaboratori e in particolare Gianfranco Ricci che è il mio collaboratore, il dottor Gianfranco Ricci che è il mio amico e consigliere gastronomica. Nella nostra associazione ci sono varie categorie e il consiglio di gastronomica è quello che è più vicino al presidente, al BAI e per l'organizzazione degli eventi che mensilmente organizziamo di carattere enogastronomico.